Perché converrebbe fare impresa nella nuova Pescara? Perché nella nuova Pescara probabilmente ci sarà una riduzione della pressione fiscale su tutte le imprese. Pressione fiscale complessiva che verte sulle imprese è molto alta ma anche molto diversificata nei tre comuni adesso. Perché a Pescara abbiamo calcolato che è il 62,1, a Monte Silvano è il 63,8, a Spoltore è il 58,6. Se solo si arrivasse già a fare la media dei tre comuni si arriverebbe al 61,5. Ma questo non basta perché dall'Unione deriverebbero una riduzione delle spese per la razionalizzazione delle amministrazioni comunali ma deriverebbero anche maggiori trasferimenti dallo Stato in ragione proprio dell'Unione. I maggiori trasferimenti rappresentano il 10% delle entrate tributarie dei tre comuni. Se solo anche in parte venisse adottati questi maggiori trasferimenti a riduzione della pressione fiscale tutti i comuni e tutte le famiglie e tutte le imprese avrebbero una riduzione della pressione fiscale. Quindi meno fiscalità più imprese? Meno fiscalità più imprese e più consumi perché i cittadini avrebbero più disponibilità economiche per fare spese. Quindi voi come CNA auspicate che si possa arrivare al più presto ad un unico grande centro metropolitano? È fondamentale. Si dice che l'Unione fa la forza ma in questo caso l'Unione fa riduzione di pressione fiscale.